Musica Presentati grazie al protocollo di intesa tra Corpo Forestale dello Stato e tre parchi nazionali abruzzesi, la nuova unità cinofila antiveleno che opererà presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e il nuovo automezzo attrezzato per l'impiego dei nuclei cinofili, dislocato presso il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. L'uso illegale del veleno è oggetto di attento monitoraggio da parte del Corpo Forestale, sia in chiave di prevenzione che repressiva. Dal 2011 a oggi i nuclei cinofili antiveleno del Corpo Forestale hanno effettuato 168 ispezioni, rinvenendo 132 esche e 36 carcasse avvelenate, 150 ispezioni preventive con 950 ore di lavoro effettuate. Grazie allo sviluppo dell'analisi criminale e del fenomeno, in funzione dei principi attivi rilevati in carcasse ed esche da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo e della localizzazione delle esche, sono stati individuati nel 2015, per la prima volta in Abruzzo, due avvelenatori, uno in provincia di Teramo ed uno nel territorio del Parco Nazionale della Maiella. Certamente le esche avvelenate che a volte vengono appunto disperse nell'ambiente per varie finalità, per conflitti personali, per conflitti da ricercatori di tartufi, eccetera, sono delle vere e proprie bombe ecologiche, perché purtroppo chiaramente anche lupi, orsi e fauna selvatica appareggiata può imbattersi in queste esche. Il progetto appunto, grazie allo strumento operativo efficacissimo dei cani antiveleno, riesce sia all'individuazione delle esche, sia quindi a mettere a disposizione del decisore, del legislatore, uno strumento importantissimo per il monitoraggio del fenomeno, e sia finalmente anche a individuare i responsabili, come è successo nel 2014, nel 2015, in provincia di Teramo e nel Parco della Maiella. L'alta tecnologia al servizio della sicurezza dei cittadini, con una collaborazione pubblico-privato. Questo è il senso dell'accordo stipulato oggi a Palazzo Silone tra la Regione Abruzzo e la società Telespazio S.P.A. In base a questo accordo, il Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione potrà avvalersi della strumentazione tecnologica all'avanguardia di Telespazio, rappresentata dalla rete regionale di monitoraggio, costituita dai radar di Pereto, in provincia dell'Aquila, di Tortoreto, in provincia di Teramo, e di Tufillo, in provincia di Chieti, migliorando così di molto in qualità e tempistica l'elaborazione di scenari di previsione di rischio, rappresentati da alluvioni, frane, valanghe e incendi. Una collaborazione, ha annunciato il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, che ben presto si estenderà anche la partita decisiva del rischio sismico, a cominciare da territori particolarmente a rischio, come quello di Sulmona. Per noi è particolare motivo di, lasciatemi dire, di soddisfazione e di orgoglio poter lavorare con la Regione per un servizio di così alta importanza. Per il resto siamo ancora più felici di poter eventualmente collaborare in futuro per poter intervenire su un progetto che possa anche aiutare alla prevenzione da qualsiasi tipo di rischio. Noi abbiamo necessità di sapere, di conoscere in anticipo, per poter poi anche reagire adeguatamente e proporzionalmente. Noi abbiamo attivato questa convenzione con Telespazio, che è un giacimento di competenza e di bravura. E ci fa piacere che ci sia stata anche cordialità di corrispondenza. C'è cioè la comodità di averli nel suolo abruzzese, con una storia di grande orgoglio e di grande dignità e noi stiamo raccogliendo l'opportunità di questa collaborazione. Chiederemo a Telespazio di aiutarci anche per quanto riguarda la verifica della staticità e della stabilità di tutto il costruito storico di Sulmona. Vediamo se è sostenibile sul piano finanziariamente e sul piano anche del diritto della procedura. Porta aperta all'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila, nell'ultimo dei suoi Open Day di quest'anno, l'Istituto ha voluto mostrare agli studenti delle scuole superiori d'Abruzzo e più in generale ai cittadini i laboratori della scuola di restauro, una delle cinque in Italia interna ad un'accademia. Abilitanti alla professione di restauratore, un talento e una professione, sottolinea il direttore Marco Brandizzi, che nella ricostruzione epossismica abruzzese ha un presente e un futuro assicurato. È un corso estremamente importante che permette agli studenti di poter fare la professione proprio del restauratore, restauratore di beni vincolati dallo Stato, quindi i ragazzi entrerebbero dopo la tesi in una lista privilegiata del Ministero dei Beni Culturali e potranno restaurare beni di estrema importanza. Non a caso noi oggi, accanto appunto alla presentazione, all'Open Day, alla presentazione del corso di restauro, presenteremo anche il restauro della tela del Duomo. Con l'occasione dell'Open Day i visitatori hanno potuto seguire anche il cantiere di restauro della grande tela raffigurante la cupola del Duomo dell'Aquila, la cattedrale dei Santi Massimo e Giorgio, una preziosa testimonianza del patrimonio artistico della città, opera del pittore Venanzio Mascitelli, che nel 1828 ha realizzato una finta cupola dipinta. Nella notte al terremoto del saprile 2009 la tela è precipitata sotto il crollo della volta sovrastante, spaccandosi in vari pezzi, ed è ora oggetto di restauro e ricomposizione proprio nei laboratori didattici dell'Accademia. Che abbiamo già iniziato in questi giorni, in questi mesi, e che poi riconsegneremo alla città dell'Aquila, alla tela del Duomo, ancora da restaurare e noi lavoreremo proprio su questo settore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.